Musica Ma con me c'è anche camper No non sono camper sono il fantasmino Del formaggino E di nutella Allora abbiamo deciso di fare una Mai provato il formaggio con la nutella No non ho mai provato il formaggio con la nutella Comunque questo non c'entra E il barret con lo stinger No neanche quello l'ho provato Però ritornerà utile secondo me Spawn killers time con episodio speciale Perché ci sono io ovviamente Perché lui è famoso e mi va a fare i soldoni Infatti l'ho invitato per quello Ma soprattutto perché è Barret only no scope Esatto e visto Diciamo le centinaia di voti che hanno preso I commenti che è una cosa che non era mai successa Camper ha detto oh my god Devo esserci anch'io e allora Certo e faremo una morte a testa Facciamo una morte a testa quindi sarà tipo Un anno di rivieni di joystick perché moriremo 60 volte E comincia spawn Comincio io ora mi fai la cross the map Guarda guarda lì ho fatto collate ieri a cross the map qua Non ci credo sai che non ci credo Cioè neanche la cross the map perché l'ho solo collate Però se vai Solo Oh senti lo sborro Eh dai Catturate gli obiettivi Stiamo prendendo alpha Ma lo sordi Ho passato da 3 io Lo sai che se dici cacciato ti viene nato da pinocchio Si Vabbè Niente da fare Niente da fare cosa volevi fare Io volevo beccarle una scope Ma certo Allora abbiamo fatto anche una morte a prima Ma abbiamo deciso di scartarla perché c'erano un po' di salti host e quegli altri avevano colpo preciso e salti host e hanno tirato tipo 65 reaper 65 predetto, tocca a camper beppe vergomi, commenta la partita comunque, beh, e ho fatto due across the map spaventosi, quindi ve li metterò alla fine con le reaction perché devi sparare più no, hitmarker devi sparare più in fretta, caro camper, adesso tocca a me ecco, altra quadrupla, vai complimenti hai fatto un'altra hitmarker? chi? tu, con la sempre eh, non lo so, sai, il sempre fa un nostro hitmarker qua è come lanciare palloncini ma dove spari? ma! no, scop, across the map! l'hai visto? l'hai visto? era, era laggiù in fondo, era quest'uomo qui ottimo, ok, questo gameplay è già diventato buono anche se faccio 1-1-1000 roba epica questa, questa uccisione sì, ma se c'è il camper che forza la map oh, l'ho stordito, vai lì a ucciderlo la cosa divertente, sai qual è? eh che uno è contro l'altro cioè, io ti po' per gli altri sperano che ti uccidano intanto, io saremo 1-0 per me perché ho fatto un'uccisione c'hai la, c'hai la tritta lì dentro ma sei un idiota! ma devi usare il barrage perché lanci le sente che sono le regole dello spawn killer time non puoi usare cose che ti inventi ma tu sei, sei un gi... oh, buono, buono, buono vai, vai... boh! boh! mamma mia! hai un colpo solo! hitmarker! no! non devi ricaricare, pezzo di cazzo! no! cioè, lui aveva l'occasione della vita per davvero l'occasione della vita davanti perché aveva 4 persone e aveva solamente da ripiegare il suo barrage e no, lui ti dava lo stinger! pensavo di avere la mia secondaria! perché hai lo stinger poi, scusa? eh, se chiamano assalto è sempre meglio avere uno stinger perché tanto non potrei usare nessun'arma ok una mela al giorno quando il medico di torno buona mela a tutti guardalo qua, guardalo qua, guardalo qua no! dai, sbarretta! hai un cannone! e quella è una mina no! riabbassati! che cazzo te stavo facendo? qua ce n'è uno comunque eh in alto è morto è morto lì! davanti a te! preso! preso facile! tanto c'ho i compagni che mi fanno tipo mille giubbotti dai mori bastardo, voglio giocare io! eh no, adesso non muoio, faccio la mo fa la mo! ve l'ha detto ragazzi bohohoho oh, sapete? eh io gioco tattico tipo come gioca... oh cacchio sono senza colpi come gioca? come gioca... giallo! 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 dai, sbarretta! eh, cosa devo farci? headshot! non ho colpi e sono a quattro di fila col barret sbarrettando guarda un po' te allora guardiamoci intorno capiamo la situazione il mio compagno è già camminato se n'è la uno che mi ha... spara! no, ultima... ma vergognati! desert eagle va bene lo stesso io sbarretto con desert eagle non ho problemi ragazzi beh ecco, risolto il problema tocca camper hai anche i giubbotti volendo li mettiamo... qua! no! sbarretta! 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 no, non è giusto! ma schifoso con assassino promo vergognati! si vede che camper non è degno di uno spawn killer time solo io posso giocarle gli spawn killer ma la Gianni gioca con assassino! eh, un perk del gioco è la scusa di quando lo uso no, se veniva questa cosa tipo una triple headshot collateral rischia il campo al dito eh, si misterio sono anche senza colpi e qua ce n'è uno ce n'è uno dai che si suicidano la gente che si suicida spara! oh mio dio doppia uccisione effetto, sono laderal wow eh, si ma qui finisca i colpi dobbiamo metterci sciacallo beota o specialista con sciacallo e poi... a cross vabbè ma dai hitmarker fanno sempre hitmarker a cross è una legge di do di tutte le mappe pensavo fosse una legge di spawn o comunque siamo stra positivi cioè almeno io da... ma vergognati! si accoltellalo eh la connessione eh ci stava l'accoltellata comunque qua dodici otto cioè positivi togliendo le quattro morti di camper sarei... super positivo oh, non volevo tirare la sandex ho sbagliato beh tanto era già morto intanto prendi sei intanto prendi sei no prendi smart va ma come lo aspetto nooo ahahahah dovevo sdraiarmi oh quello lassù no con le sandex non si può qual'è amico qual'è nemico ma alzati ma tu hai una joystick da rock car... sbarretta eh ma non sbarretta eh svegli alberta lì ma dai rido oh guarda che se proprio ne facciamo un'altra non ho problemi santex ci fumasse c'hai fatto? ho attaccato la sandex ai miei giubbotti nooo ahahahahah questa 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 è la top settecento per cento cioè ha attaccato la sandex ai tre giubbotti 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 forse sono sterile uno sborretto ahahah brutto non avrai famiglia tanti piccoli camperini su due ruote guarda questo come muore ahahahahah ecco queste qui sono di quelle eh mamma io faccio un montaggio di sta roba dai ultima speranza che cane dai tocca al camper il camper corre la fascia scatta oh mio dio la rete è vicina non puoi mirare idiota ma sbarrettavo tu hai detto sbarrettare sbarrettare non scopio comunque è sbarrettare senza mirare eh chi ha detto puoi mirare ce l'hai uno dietro se non guardi la mappa colpa la testa lascialo a me lo stealth che farò sicuramente eh madonna qui la gente compare dai funghi eccola qua la sestupla ragazzi bella regalo dedicata a voi cazzo fai qui west di merda trilla triple io sono bravo a lanciare l'istelto non so se vantarmene o vergognarne vergognati ok la tecnica è di stare qua dietro e fargli no guarda che se mi trovo all'inità spara la soluzione è sparare la soluzione è scat e oh my gooo che cazzo con l'ultimo colpo però l'abbiamo preso eh siamo in vista brutta abbiamo ancora giobato quindi siamo tipo immortali per un pochettino non passa ecco ecco tutti sanno che sono qua non rincorrerlo che è morto moriva comunque ora qui c'è l'orda adesso qua li prendiamo da dietro su B la caccia di zombie piano 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 guarda quello lì l'ho già individuato senti il piuso del tuo nemio vabbè ma sei uno scandalo eh sei uno scandalo non è lo sbarrettare è questione di fortuna e ho tre colpi porca miseria stiamo prendendo alta com'è che la risolvo questa situazione? trovando una volta a terra 19-12 che ha un punteggio epico che palle guarda cosa fanno i tuoi compagni son curioso eh ma fanno il culo stai rotto in culo oh guarda il punteggio di wes che voleva fare la mob sono specializzata no 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 sono camper io non sono spawn ecco voleva fare la mob eccolo ma che stronzo potremmo rage quit guarda il punteggio di wes che voleva fare la mob rage quittiamo in live no no non rage quittare dai che rubagliene più possibili non rage quitti nooo stiamo facendo il punteggio della vita dai è la trollata del secolo rage quittiamo un'altra mob ah no no per carità era soltanto la kill finale sei uno sfigato wesk quello che si chiama come le cuffie che indossa paolo joker che cazzo mi volete trollare anche? ma che simpaticoni adesso con tutte le bandiere che vince eh vabbè ti veniva il no scope della vita eh 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 io provo ogni angolo proverò il no scope della vita no scope del job oh my god questa partita va nei montaggi si ma l'hai visto da che distanza l'ho preso ho capito come fanno i fades a fare esatto loro si mettono qui a continuare a fare così oh ma vabbè è una cosa probabil di se studi le leggi delle probabilità non non è possibile due no scope across the map anche con mirastal eh prima che finisca il gameplay ah si dai facciamose due sponsorizzazioni una è per arctic l'amico dello zappatore chi è lo zappatore? ah il brand ah il brand beh praticamente arctic ci ha fatto la maglietta nuova di what dia è vero? si quella lì spacca di brutta spacca un sacco benvenuti a what dia e quindi voi vi compatriamo dietro di what dia e passate sul canale di arctic che sarà da qualche parte in descrizione e nel cuo di spawn oh e poi chi era quell'altro che non lo conosco io? tu pensaci così muori si no madonna con ultima speranza questi qua e quell'altro è mi pare giacco non vorrei dire una boiata giacco con la Q giacquo? giacquo senza la V praticamente che ti ha fatto il background per rekabenga ah si che è carino si è carino cioè quello di prima era molto semplice cioè il giubbotto non mi puoi uccidere c'avevo il giubbotto tu ami predator guarda proprio non neanche mi vedevo nella visuale tira giù l'elicottero con lo stinger ma no voglio andare a sbarrettare io allora muori facile muori poi mi sa che vogliono vincere loro le mancinelle ma dai muori 3 2 no vabbè quindi se volete qualche lavoro di grafica passate da questi due grafici e se volete qualche altro lavoretto fanno anche quello loro guarda come va giù bene adesso io faccio 800 punti ok che punti ce ne sono doppi per la MOV ma qui c'erano ancora punti doppi per il weekend e poi punti doppi perchè sono simpatico secondo me ieri giocavo in dominio e facevo 650 punti a uccisione neanche fosse no no io la li volevo questa fidazza fidza 2 addirittura ho splittata tra me si splittano ieri mi si è splittata una collaterale da due che erano uno dietro l'altro non devo ancora capire come è venuto a succedere no io ho fatto una fidza 5 con l'UMP ieri ti ricordi invece? ah si bravo no era quad feed più 1 quad feed più 1 con l'UMP in veterano mi sento forte allora ah in veterano se volete vederla la registreremo se no è tutto volentino però cioè che ne so io ai ragazzi la volete vedere è la quad feed 2 MP in veterano eh è camper tra l'altro il camper è quello il bello cioè non è stato che sia una colpita quant'è il punteggio qua? oh ragazzi conquistiamo un arrembaggio questa eh seca c'è uno lì davanti eh è un morto era morto 600 punti per bandiera ma li ho conquisto di più? ma no ora fai eh se valeva oh 85 punti di barret ma vuoi morire che voglio giocare io no non posso morire perché dobbiamo vincere la partita io devo difendere questa bandiera tanto perdete si si lamenta perché non fa la doppia sei a 43 uccisioni cosa vuoi fare la doppia? nooo che peccato sconfitto vorrà dire che giocherà un grattevici beh 24 16 comunque sbarrettando uno scopo è un punteggio di tutto rispetto con camper che gioca assieme a te appunto ok le uccisioni di camper sono cose pazzesche comunque in fondo a questo video dopo la outro così vi guardate la outro io metterò anche i due across the map più la cosa epica che mi è successa con i miei giubbotti nella partita di prima che non abbiamo caricato perché era un casino eh siamo morti 65 volte perché ci lanciavano i reaper e neanche abbiamo fatto un'uccisione comunque basta così comunque basta così e scrivete la prossima sfida che vogliate spawn killer affronti nel prossimo episodio spero di non aver sbagliato i congiuntivi o gli scriviamo sotto i due commenti come l'altra volta i più belli venuti decideremo vedremo se ci sono sotto i commenti prendete i commenti sotto che uno potrebbe essere come l'altra volta giocare con la schermata dei punti che anche quello ha preso 120 voti e quindi dai 120 voti mamma mia è piaciuto o se no ho qualcos'altro che mi stuzzica la mente vedendo i commenti perché mi guardi no mi fai venire paura bella spawn killer bella camper e vai con la musica dirett